buongiorno dov'è che è andata qui? a lavorare? a che ora entrate? io sto perdendo i piedi vedi che sta perdendo? vai allora vado avanti Kodoshi, la parola bagnata? si che vuol dire bagnata? ci camminiamo? vieni Dalia ci siamo oh ascolta qui dico dove si passa 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 ciao buongiorno buongiorno ehi grande Alfio, Maceo, Fabio ehi piforina vada gruppo le gruppo, le sturme truppen questa è un trinchea questa è un trinchea a Grazie a tutti.